ciao sono il dottor max della farmamax che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in formato video dove io personalmente vi leggo i bocciardini in questa nuova serie di video tratterò l'argomento relativo alle malattie o patologie che purtroppo spesso affliggono molti di noi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace ai video che ti interessano attivare la campanellina e commentare con le tue esperienze personali in base ai farmaci principi attivi che assumi o malattie che stai combattendo in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute in questo video ti parlo della malattia o patologia prolasso uterovaginale che cos'è il prolasso urogenitale con l'espressione prolasso uterovaginale si intende la discesa verso il basso e talvolta fuori dall'introito vaginale di una o più strutture pelviche esso può infatti interessare la vescica cistocele il retto rettocele l'utero isterocele o prolasso uterino in combinazioni e livelli di gravità differenti il prolasso è causato dal cedimento totale o parziale dei sistemi di sospensione e sostegno degli organi pelvici è una condizione piuttosto frequente nelle donne di età senile e raramente può colpire anche le donne giovani se vi è una predisposizione il prolasso avviene in seguito a sollecitazioni meccaniche come il parto o indebolimenti strutturali associati a carenze ormonali che possono sopraggiungere ad esempio dopo la menopausa a seconda della gravità si possono distinguere prolassi di grado quando l'organo prolassato pur spostato verso il basso e ancora all'interno del canale vaginale di grado quando affiora la rima volvare senza tuttavia uscirne di grado quando sporce al di fuori di essa di grado quando è totalmente al di fuori quali sono le cause del prolasso urogenitale la corretta funzionalità del pavimento pelvico dipende dalla sua integrità e dalla corretta integrazione funzionale di tutte le strutture che lo costituiscono il parto è uno dei principali fattori imputati dell'insorgenza del prolasso urogenitale costituisce per le strutture muscolo fasciali e nervose una significativa sollecitazione biomeccanica per questa ragione il prolasso urogenitale è patologia più facilmente riscontrabile nelle donne anziane e nelle donne che hanno avuto figli raramente può riguardare anche donne giovani o addirittura vergini anche la menopausa può modificare lo stato di salute del pavimento pelvico contribuendo a provocare il suo rilassamento altra condizione che può causare lo sviluppo della malattia e la stipsi cronica associata a prolungati sforzi di pressione endo addominale nella diagnosi occorre inoltre tenere conto di fattori quali la predisposizione genetica la presenza di una broncopatia cronica l'obesità quali sono i sintomi del prolasso urogenitale il prolasso urogenitale si manifesta con una sensazione di ingondro vaginale fastidioso che talvolta si accompagna alla sensazione tattile di qualcosa che esce dall'apertura vaginale in particolare il fastidio si presenta la sera o dopo uno sforzo talvolta anche lieve oppure durante l'uso del bagno dopo molte ore in piedi altri disturbi possono essere la sensazione di pesantezza pelvica dolore nella regione pelvica e lombare nello specifico quando è coinvolta la vescica possono insorgere e coesistere sintomi urinari come incompleto svuotamento ritenzione o difficoltà ad urinare con necessità di spingere flusso di urina esile spesso è associato a disfunzioni sessuali o difficoltà durante il rapporto con conseguenti sensazioni di disagio o dolore durante il coito tali disturbi possono condizionare in modo significativo la qualità della vita influenzando azioni quotidiane e sfera affettiva qual è la terapia del brulasso urogenitale la terapia del brulasso genitale può essere sia chirurgica che medica le tecniche chirurgiche fino ad oggi adottate si basano principalmente sulla ricostruzione del pavimento pelvico usando le strutture fasciali preesistenti questo tipo di approccio è effettuato prevalentemente per via vaginale quindi senza il classico taglio ed è associato speso all'isterectomia e all'asportazione delle ovaie nel caso delle pazienti a cui è stato asportato l'utero e che in seguito sviluppano il prolasso della vagina l'approccio chirurgico consiste nell'ancoraggio di una rete alla vagina e successivo fissaggio al promontorio sacrale colpo promonto sacropessia attraverso una tecnica mininvasiva che non prevede il taglio sulla pancia ma l'utilizzo della laparoscopia del robot da vinci i giorni di degenza richiesti sono in genere tre e l'intervento è finalizzato al ripristino della normale anatomia e al recupero funzionale del pavimento pelvico nelle donne molto anziane o che hanno gravi problemi di salute tali per cui non sono in grado di sostenere un intervento chirurgico l'alternativa consiste nel posizionamento da parte del ginecologico di un pessario vaginale ossia di un anello in gomma o silicone che il medico introduce all'interno della vagina con lo scopo di sostenere l'utero e la vescica che il prolasso si estenda all'esterno il pessario solitamente non provoca alcun fastidio è ben tollerata e va sostituito dal ginecologo periodicamente ogni sei mesi circa fonte informazioni rilevate dal sito humanitas punto it grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farmamax ti sia stata utile iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo alla prossima patologia esaminata